Sto per leggere due passi particolarmente significativi del De Officis, in cui Cicerone descrive che cosa sia il decoro e quali siano i rapporti fra decoro e onestà. Ciò che è decoroso è onesto e ciò che è onesto è decoroso. E la differenza che passa tra l'onestà e il decoro è più facile a intendere che a spiegare. In verità, tutto ciò che ha il carattere del decoro non appare se non quando lo precede l'onestà. Ecco perché, non solo in questa parte dell'onestà, della quale dobbiamo ora trattare, ma anche nelle tre precedenti si manifesta il decoro. Il sapiente uso della ragione della parola, il meditare ogni azione e in ogni cosa cercare e osservare la verità e ad essa attenersi, è decoroso. Mentre, al contrario, l'ingannarsi e l'errare, il cadere in fallo e il lasciarsi raggirare, è altrettanto indecoroso quanto l'uscire di strada e uscire di senno. E così, ogni azione giusta è decorosa, e ogni azione ingiusta, come è disonesta, così è anche indecorosa. Allo stesso modo si comporta la fortezza. Tutte le azioni generose e magnanime appaiono degne dell'uomo e decorose. Le azioni contrarie, invece, come sono disoneste, così offendono il decoro. Ora, questo decoro di cui parliamo, e che si manifesta in ogni azione e in ogni parola, e perfino nel muoversi e nell'atteggiamento della persona, è riposto in tre cose, difficili a spiegar bene, ma tali che basta darne un'idea. Nella bellezza, nell'ordine e nell'eleganza adatta all'azione. E in queste tre cose è compreso anche il segreto di piacere a coloro coi quali o presso i quali viviamo. Ebbene, anche di queste cose converrà discorrere brevemente. Prima di tutto, è evidente che la natura pose grande cura nella conformazione del nostro corpo, mise in mostra il volto e tutte quelle parti che sono decorose a vedersi, mentre ce l'ho, e nascose, quelle che, destinate alle necessità naturali, avrebbero avuto diversamente un aspetto brutto e vergognoso. Il pudore dell'uomo imitò questa così diligente costruzione della natura. Quelle parti che la natura nascose, tutti gli uomini sani di mente le sottraggono alla vista, cercando di soddisfare le necessità naturali nel modo più occulto possibile. E quanto a quelle parti del corpo che servono a certe necessarie funzioni, noi non chiamiamo col loro nome né quelle parti né le funzioni loro. In generale, ciò che non è brutto a farsi, purché si faccia in segreto, è osceno a dirsi. Pertanto, se il fare quelle cose apertamente è indizio di spudoratezza, non è certo indizio di pudore il parlarne senza ritegno. E in verità, non bisogna dar retta ai cinici o a quelli storici che furono quasi cinici, i quali riprendono e ci deridono perché giudichiamo vergognose solo a nominarle certe cose che in realtà non sono vergognose, mentre chiamiamo coi loro nomi altre cose che in realtà sono veramente spregevoli. Per esempio, il rubare, il frodare, il falsificare, sono cose realmente spregevoli, ma si possono nominare senza darne lo sceno. Invece, il dare alla luce dei figliuoli, cosa in sé onesta, è osceno a chiamarla col suo nome. E parecchi altri argomenti adducono gli stessi filosofi in appoggio a tale opinione contro il cosiddetto pregiudizio del pudore. No, noi dobbiamo prendere per guida la natura ed evitare tutto ciò che può offendere gli orecchi. Lo stare in piedi e il camminare, il modo di stare a tavola, il volto, lo sguardo, il gesto conservino, il più dignitoso decoro possibile. In queste cose dobbiamo soprattutto guardarci da due difetti, da una effemminata mollezza e da una scontrosa villania. E in vero non si deve ammettere che queste norme, obbligatorie per gli strioni e per gli oratori, siano indifferenti per noi. Certo, il costume degli attori comporta, per antica rigidezza morale, un così delicato pudore che nessuno osa presentarsi sulla scena senza mutande, per timore che, se per qualche accidente certe parti del corpo si scoprono, la loro vista non offenda il decoro. E così, secondo il nostro costume, i figlioli grandi non fanno il bagno insieme col padre, né il genere o col suocero. Bisogna dunque osservare la pudicizia anche in queste cose. Tanto più che la natura stessa ne è maestra e guida.